Allora riprendiamo la seconda parte con il vocabolario Paolo Squillaciotti e Rossella Mosti, non so se è in quest'ordine. Sì. Prego. Bene, allora arriviamo al vocabolario. Il vocabolario che credo che non abbia il nostro tesoro della lingua italiana delle origini. Siccome i tempi sono molto stretti, lo chiamerò sempre Tlio, ma richiamandomi all'invocazione, alla complicazione che ci ha fatto prima Giuseppe Marrani, ricordo sempre che dietro le sigle, la sigla Gatto, la sigla Tlio, la sigla Corpus, ci sono degli oggetti materiali complessi che vanno indagati. Quindi dico Tlio, ma per dire una cosa molto complessa. Però direi che non ha più bisogno di presentazioni dopo vent'anni dalla sua nascita. Anche la maschera di ricerca, che è stata realizzata da Andrea Boccellari, è una maschera di ricerca, a differenza di Gatto. Si è detto che ha un utilizzo piuttosto complicato, la maschera di ricerca e il vocabolario invece è estremamente semplice e intuitiva. L'unica cosa che raccomando agli utenti è di consultare questa indicazione tutto sul Trio, perché qui non ci sono solo delle informazioni generiche, ma si accede ad una serie di informazioni molto dettagliate, che vanno dalle istruzioni per utilizzare il vocabolario, in maniera molto sintetica, fino alle dettagliatissime norme di redazione, a bibliografie e ad altri contenuti del vocabolario. Per esempio si può accedere alla consultazione di tutte le espressioni polirematiche che sono state consultate. Il vocabolario è online, vi farò vedere delle schede di PowerPoint, quindi una cosa statica e non dinamica, semplicemente per abbreviare i tempi. Però dall'indirizzo www.vocabolario.org arrivate alla pagina web dell'OVI, che è stata rinnovata per questa occasione, e da lì facilmente alla pagina di interrogazione del vocabolario. Dicevo, non lo presento, provo ad assumerlo come oggetto di riflessione dall'interno, per provare a semplificare alcuni nodi che stiamo affrontando in questo periodo, e anche a parlare un po' delle strategie di avanzamento del vocabolario. Molto è stato detto in questi giorni, tra ieri e oggi, e quindi potrò abbreviare. Si è parlato di numeri, e in effetti il trio si è dovuto confrontare immediatamente con la dimensione quantitativa. Ci sono i numeri delle voci da redigere, i numeri delle occorrenze da vagliare e classificare, il numero delle persone impegnate nell'impresa, naturalmente delle risorse disponibili, questo è un punto assolutamente fondamentale, e il tutto in relazione ai tempi che era ragionevole ed è ragionevole impiegare per questa impresa. E di numeri vi parlerò anch'io. Non mi pare un caso, comunque ha un valore simbolico il fatto che la prima voce che è stata redatta, ieri Beltrami ci ha detto che le prime voci sono state redatte nel gennaio del 1996, la prima voce che è stata redatta esattamente il 14 gennaio del 1996, era una domenica e Beltrami si trovava qui alla villa di Castello e non sapendo cosa fare ha redatto la prima voce. Comunque dicevo, la prima voce era la voce abbaco. Abbaco che, dalla definizione 1, che ingrandisco un po', è l'arte di fare i conti. Quindi si è partiti subito con la prima voce sapendo che bisognava fare dei conti per fare questo vocabolaio. La voce non è datata il 14 gennaio del 1996, è datata ad una data successiva, quando abbiamo fatto una grande revisione del vocabolario, abbiamo stabilito la struttura formale già nel 1998, che continuiamo oggi ad usare. Quindi, arte di fare i conti, ma anche, al punto 2 della voce, tavoletta, cioè gli strumenti. La voce abbaco comprende anche una definizione in cui si parla di strumenti, perché servono i conti, ma servono gli strumenti. Nel 1996 gli strumenti praticamente non ce n'erano, sono stati tutti sviluppati nel tempo successivo. Uno dei pochi strumenti era un volume che, appunto, Beltrami trovò nel 1992, che era la bibliografia cartacea dei testi del Corpus. Insomma, sono stati fatti un po' di passi in avanti da allora. Quindi, di numeri se ne parla sempre, se ne parla anche con accenti ironici ogni tanto, però c'è un'oppugnabile verità, cioè che per redigere un vocabolario, completare un vocabolario che avrà circa 57-58 mila occorrenze, essendo arrivati a 34 mila, bisogna fare i conti con i numeri. La pubblicazione online favorisce un'illusione di alcuni problemi per cui abbiamo potuto redigere voci senza preoccuparci di una progressione che uno strumento rigido, cartaceo, su supporto informatico rigido come un dischetto, non ci avrebbe concesso. Però, diciamo che siamo arrivati al momento di fare i conti per poter arrivare alla fine dell'impresa. Cioè, abbiamo 30.886 voci pubblicate, abbiamo anche 3.071 voci in corso di revisione. Il totale, in base ad uno strumento che Rossella Mosti ha messo a punto, una nuova interfaccia è stata realizzata da Andrea Boccellari, che poi ve ne parlerà subito dopo il mio intervento, quindi non mi dilungo, conta al momento 56.615 voci complessive. Quindi resterebbero 22.658 voci. Vi sottolineerei un dato, però, un dato problematico per iniziare a parlare un po' di problemi. Cioè, queste 3.000 voci che sono in corso di revisione. Questo è uno dei nodi problematici, cioè un arretrato di revisione che dobbiamo arginare perché è uno dei compiti a brevissimo termine che ci poniamo, perché la revisione del Clio è un aspetto fondamentale. È una redazione, come è stato detto, collettiva, basata su norme di redazione molto dettagliate che coprono molti casi, però c'è bisogno di una revisione molto accurata e quindi onerosa e lunga che riporti in qualche modo all'uniformità la necessaria e inevitabile varietà e difformità che si crea quando sono molte persone a lavorare sullo stesso oggetto. Però il gruppo di lavoro che lavora sulla revisione, che è composto da me, da Perlarsson e da Rossella Mosti, può contare anche, come è stato ricordato ieri dal direttore Leonardi, sull'opera di Pietro Beltrame che continua, nonostante abbia lasciato da più di due anni la direzione dell'Istituto, a occuparsi del suo trio. Strategie d'avanzamento. Ieri Leonardi ha informato l'auditorio che una strategia d'avanzamento è quella alfabetica. È una strategia che non abbiamo mai perseguito in maniera precisa con un rigore assoluto, però di fatto i tre quarti delle voci sono concentrati fra l'A e la G. Questa viene dopo. Un altro percorso strategico è quello di incrociare l'attività relazionale con le ricerche individuali dei nostri redattori. Cioè mettere insieme l'essicografia e ricerca. Questo è un nesso fondamentale. È un circolo virtuoso fra due attività che servono entrambe per misurare la vitalità di ogni istituto e in particolare del nostro. Dico vitalità perché è un termine che non si usa normalmente nelle valutazioni ministeriali o di quelle del CNR che ci condizionano. Poi succede a volte che la nostra vitalità serva anche a farci avere delle buone valutazioni e questa è una cosa che noi salutiamo con soddisfazione. Però il punto centrale è che spesso, spessissimo, la ricerca incrocia l'attività lessicografica, quella più legata all'istituzione. Qualche esempio. Non potrei farne moltissimi, ne ho scelti un paio. Zeno Verlato ha pubblicato un volume, un ponderoso volume con vite risanti in un manoscritto della Nazionale di Firenze. Si è apparso, è l'unico dei nostri collaboratori che vanta questo titolo nella collana dei Baiefte della Zeichit Romanische Philologie, una delle più prestigiose collane. Come vedete al punto 1.1 della voce cita un esempio tratto da questo volume. Cioè è portato chi fa delle ricerche a trarne un elemento per redigere delle voci o integrare voci che in questo caso raddoppiano l'occorrenza di tigurio, che è un altro modo per dire tugurio, con un'altra trafile etimologica. O Elena Artale, che studia da tempo la produzione medica medievale, e ha pubblicato uno dei volgarizzamenti della chirurgia di Ruggero Frugardo da Parma. E ha potuto quindi individuare una voce che ha l'entrata omografa a quella di un aggettivo che deriva dall'osso, ma in realtà è un'altra cosa. È una di quelle parole di cui ci parlava ieri De Mauro, ma detto in termini scientifici, e che non ha altre occorrenze se non più tardi del nostro limite cronologico. La prima attestazione del battaglia è al XVII secolo. Prendo spunto da questa voce per fare un accenno al fatto che questa dimensione di ricerca individuale si collega con una ricerca invece più collettiva, perché Elena Artale, Ilaria Zamuner e Elisa Guadagnini hanno formato un gruppo di ricerca che ha fondato il Corpus Remedia, ne ha parlato prima per Larsson, quindi non ci ritorno, che avrà una significativa ricaduta sul trio. Elisa Guadagnini ve ne parlerà ampiamente insieme col suo collega Vaccaro tra poco, è leader del progetto Divo dei Volgarizzamenti, anche questo è un progetto che ha avuto e avrà ancora una enorme ricaduta sul trio. 2.600 voci sinora, ma sono destinate a essere molte di più. Tutti i progetti hanno una ricaduta sul trio. Questa è una caratteristica peculiare dell'attività progettuale dell'OVI, in cui si cerca sempre di costituire dei progetti che amplino l'offerta e l'attività di ricerca dell'OVI, ma facendo sempre centro sul vocabolario. Quindi questa è una delle voci del Divo, ma anche il corpus datini di cui parlava prima di me Larsson ha fornito delle poche, perché è un corpus soprattutto quattrocentesco, quindi al di là del nostro limite cronologico, alcune occorrenze al nostro vocabolario, in particolare la prima occorrenza della malattia che oggi comunemente chiamiamo influenza, redatta fra l'altro da un allievo del professor Serianni. Un altro allievo, il professor Serianni, che la scuola di Serianni è una grande fucina diciamo di redattori del trio, ha prodotto una voce nell'ambito del progetto Lirio, un progetto che nasce da un PRIN diretto da Roberto Antonelli e che ha prodotto un centinaio di voci redatte parte da Marco Paciucci, parte da Rossella Mosti. È stato sviluppato anche, in questo periodo viene sviluppato un progetto dantesco che fornirà anche questo molto materiale lessicale al Tlio. In questo momento esistono solo un paio di voci, ve ne vorrei citare una sola, questo è il volume in cui sono state inserite le voci del progetto Lirio, la voce Solecchio di Barbara Fanini è una delle due voci, perché Barbara Fanini è una collaboratrice della Crusca che però lavora a L'Ovi, lavora in una delle stanze del L'Ovi, quindi è un trade union fra le due istituzioni che abitano questa villa. Ci sono progetti che invece non forniranno voci al Tlio per ragioni linguistiche. Uno dei nostri progetti che abbiamo collaborato è un corpus di testi medievali sardi. Ora, il sardo è una varietà che non fa parte del corpus del L'Ovi, però non fornisce voci direttamente, ma le due nostre collaboratrici che stanno lavorando alla cremente a completare il corpus atlisor del testo sardo, cioè Marica Fortunato e Sara Ravani, invece sono anche delle redattrici molto prolifiche del Tlio. La distribuzione alfabetica è uno degli obiettivi che abbiamo deciso invece di intraprendere in maniera più forte per questo 2015 e direi che un primo obiettivo è stato raggiunto. Il 40% delle voci consegnate quest'anno sono 2060 ad oggi, ma sono sicuro, sono certo dai sondaggi che ho fatto che saranno molti di più per la fine dell'anno, in queste due settimane, non escludo che qualcuno dei nostri redattori stia lavorando in questo momento a redigere qualche voce. E il 40% sono concentrate, come vedete, in questa fetta di torta fra la A e la G. Nodi problematici. Dobbiamo concludere questo vocabolario. ieri Lino Leonardi ha detto che con risorse adeguate potremmo chiudere entro il centenario della morte di Dante, il 2021, ed è una prospettiva che noi condividiamo sottolineando che ci vogliono delle risorse adeguate per non far pensare a tutti che l'attuale gruppo lavori poco, cioè noi lavoriamo al massimo nelle nostre possibilità e redigiamo almeno 2.000 voci, ma spesso 2.400. Vorrei farvi vedere che cosa significa concretamente sul piano numerico, non sul piano sostanziale delle definizioni, che pure sarebbe un argomento molto interessante, sul piano numerico cosa vuol dire redigere una voce del trio. Prendiamone una, la voce diritto. La voce diritto assomma, come vedete, quattro categorie. Dieci accezioni principali e 159 accezioni subordinate, qui ne vedete soltanto una parte, quindi 159 subordinate. 148 espressioni polirematiche, tutte classificate e consultabili attraverso la maschera di interrogazione del trio. E sono state classificati, sono stati classificati 461 esempi. Qui naturalmente vedete soltanto i primi. Le forme grafiche della voce sono 99 e queste 99 voci nel corpus di allora sviluppavano 5900 occorrenze totali che la redattrice Elisa Guadagnini ha dovuto ovviamente bagliare una per una come il metodo di redazione del trio. E ho scelto una voce tutto sommato di attestazione abbastanza ridotta. La difficoltà di questa voce lo capite benissimo, è di ordine organizzativo, semantico e più che di più che di abbondante documentazione. Altre voci invece hanno numeri molto più impressionanti. Faccio una carrellata veloce. Per esempio la voce Anno. La voce Anno Livio Petrucci che come sapete è un filologo italiano che ha lavorato per anni all'Università di Pisa non fa parte del gruppo dell'Ovi ma è un redattore occasionale di voci di questo tipo. Ha redatto di recente la voce Indizione. Per redigere questa voce ha dovuto vagliare 41.800 occorrenze anche perché tra le forme grafiche di Anno ce ne sono alcune che sono omografe di altre voci che ovviamente hanno un'abbondantissima documentazione. e non tutto il corpus è stato lemmatizzato quello che ha spiegato molto bene l'Enartale prima sono state lemmatizzate tutte le forme grafiche distinte però ci sono molte occorrenze non classificate immaginate quante ne possono avere una forma come Anno con l'H che il redattore deve comunque si trova quando scarica e analizza il materiale e quindi i numeri crescono molto. Faccio vedere per curiosità dove si trova questa forma anomala fra l'altro è una posizione nella scrittura d'anno in anno che contraddice quella norma che è stata segnalata anche da Musafia per cui in forme in cui ci aspetteremmo l'apostrofo l'H normalmente non si segna. Questo è uno dei testi più antichi diciamo delle edizioni più antiche che abbiamo nel corpus un testo datato 1492 ma è l'unica edizione delle epistole di Uco Pansiera una tesi di dottorato per esempio potrebbe essere quella di ripubblicare queste epistole e come vedete il testo è uno dei nostri citati si è intervenuto molto nel normalizzare la scrittura al punto di vista tipografico di questo testo ma qui sarebbe stato un intervento di sostanza che non è stato fatto ma forse ci sarebbero anche le condizioni per intervenire con una con una lemmatizzazione più capillare potremmo risolvere i problemi di omografia che abbiamo visto prima è stato detto poco fa che questo è uno degli obiettivi strategici quello di lavorare fondamentalmente sugli omografi abbiamo però dei rimedi alla enorme quantità di documentazione cioè abbiamo elaborato un corpus ridotto che utilizziamo in particolari condizioni un corpus di 6 milioni e 200 mila occorrenze invece che circa 22 milioni è un corpus però costruito come un campione significativo che consente riducendo il numero dei testi quindi delle occorrenze di avere comunque delle voci che siano rappresentative del corpus diciamo della documentazione completa viene utilizzato in voci di questo tipo come la voce andare redatta bisogna dirlo perché è stato un grosso lavoro da Maria Francesca Giuliani che consente di vagliare soltanto 14 mila occorrenze invece di 66 mila o come la voce Dio redatta da Vaccaro lo devo dire altro allievo il professor Seriani se no si offende e consente soltanto 93 mila occorrenze invece di 330 mila anche qui per un problema di omografia di alcune forme forme come Dei anche con l'aposto e soprattutto Dei fanno aumentare enormemente il lavoro escludendo in prima istanza dalla ricerca queste forme diciamo ambigue che possono valere per più lemmi naturalmente introducendole in un secondo tempo la ricerca arriva fino a circa 10 mila occorrenze e diventa un lavoro grosso oneroso però che è possibile fare altri rimedi sono quelli di escludere una parte di non classificare una parte del materiale detta così può sembrare un'affermazione come dire riduttiva rispetto allo strumento che contribuisco a creare però nel caso della voce arte e direi che questo ma non l'ho voluto è il quarto allievo il professor Seriani che nomino ma devo dire che riprova di quello che dicevo la voce arte è una voce in cui emergerebbe una dimensione enciclopedica del Clio che noi dobbiamo cercare di tenere a bada nel senso che come avverte una nota perché tutto viene segnalato nel caso ci siano dei comportamenti anomali rispetto alla norma i nomi delle corporazioni del tipo arte della lana per classificare le quali non c'è soltanto un problema di reperimento del materiale che è pure oneroso ma è di esatta definizione di che cos'è l'arte della lana insomma però il Clio non è un'enciclopedia del medioevo il Clio è un vocabolario quindi una nota di questo tipo consente di consente di individuare una categoria della voce in cui registrare questo questo tipo di di materiale con una categoria generale quindi la categoria dei lavoratori qualificati operanti nello stesso ambito professionale naturalmente le artes poi si recuperano nelle voci corrispondenti per cui l'arte dei petraioli verrà registrata sotto la voce petraiolo l'arte degli spadai sotto spadaio e così via e non sotto arte non sotto arte come vorrebbero le nostre le nostre regole naturalmente questo non si può fare per tutte le voci altrimenti questo è un rimedio empirico ad hoc per la voce esempio scelto perché siccome dobbiamo problematizzare stimolare la discussione quindi su questo mi aspetto una reazione al professor De Mauro altri rimedi altri rimedi sono taglio cronologico del materiale per esempio la voce apre posizione che è stata redatta dal nostro direttore a riprova del fatto che Beltrami ha anche non solo organizzato il trio ma l'ha scritto e anche per voci non come Abbaco che gli hanno richiesto metà di quella mattina forse di domenica ma come apre posizione in cui invece il taglio cronologico ad un certa data questa è una voce modulare che era nelle nostre intenzioni quella di completare il corpus ridotto all'epoca non c'era ancora è stato sviluppato tra il 2005 e il 2006 questa voce mi consente di parlare di un'altra categoria problematica del trio cioè quella delle voci grammaticali sono una categoria di voci che ancora per lo più manca al trio ci sono degli esperimenti che possono essere letti ma costituiscono un problema in un vocabolario che ha fondamentalmente una struttura semantica queste sono voci in cui sono le relazioni che si instaurano fra i termini che sono più rilevanti e dobbiamo trovare uno schema adeguato compatibile con il sistema informatico che usiamo e ci stiamo lavorando ci lavoreremo sempre di più intanto però le preposizioni sono state in parte redatte oltre a anche la preposizione da è stata è stata redatta e può costituire un buon modello tant'è che la stessa redattrice sta lavorando anche alla preposizione di naturalmente sul corpus ridotto anche in questo caso bene mi avvio alla conclusione mi avvio alla conclusione per per mettere in rilevo quali sono le difficoltà che dovremmo affrontare per arrivare a questo traguardo che potrà essere il 21 potrà essere una data un po' più successiva ma ormai è un obiettivo che direi che alla nostra portata e alla portata nostra intendo del gruppo attuale di lavoro le caratteristiche di questo gruppo sono secondo me fondamentalmente tre e dei redattori cioè servono per redigere delle buone voci del trio delle competenze linguistiche ovviamente perché si lavora su un corpus plurilingue servono delle spiccate capacità organizzative per districarsi fra il molto materiale che viene restituito dal corpus e serve quello che potrei definirei uno sguardo filologico sguardo filologico non vuol dire che tutte le occorrenze prima di essere citate devono essere vagliate sui manoscritti deve essere letta tutta la bibliografia perché altrimenti in questo modo il vocabolario non si sarebbe mai fatto anzi questo è un atteggiamento che noi cerchiamo sempre sin da piccini sin da quando arrivano piccini i redattori di evitare che venga messo in atto però lo sguardo filologico è fondamentale cosa significa intanto che esistono voci per Larson ha nominato uno degli esempi di questa voce che senza filologia semplicemente non esisterebbero la voce amaroso che è stata redatta da una nostra antica redattrice Milena per Maria e poi ha sostanziosamente integrato senza controlli sui manoscritti senza valutazione dell'edizione semplicemente non esisterebbe e a dimostrazione che lo spazio della filologia non è facilmente non si può contrarre facilmente so che Larson in un intervento congressuale che deve ancora uscire a stampa ha sfumato la definizione 2 di veleno e quindi avremo una piccola modifica a questa voce appena il volume a stampa sarà disponibile potremo dichiarare che la correzione avviene sulla base di questo strumento a volte significa che il redattore ha presente gli studi che vengono redatti e prende delle posizioni precise come in questo caso sull'esatta valutazione del termine cioè in questo caso è un esempio fuori corpus quindi non deriva direttamente dal corpus ma deriva da un'edizione che viene vagliata anche sulla bibliografia esistente e si prende una posizione che identifica correttamente bene questo è quello che dobbiamo quello che abbiamo fatto quello che serve per fare il vocabolario molto velocemente vi parlo dei possibili sviluppi per completare il vocabolario abbiamo dovuto fare dei sacrifici ce ne parlava ieri Beltrami abbiamo dovuto congelare delle parti delle voci che avevamo iniziato a redigere una di queste parti è l'annotazione sintattica il nostro dicevo prima è un vocabolario fondamentalmente semantico e quindi le annotazioni sintattiche grammaticali sono un po' sacrificate e naturalmente era stato pensato ad un rimedio a questa lacuna con delle annotazioni di questo tipo che ora non si possono leggere sulla voce ma questo è un recupero da una vecchia versione della voce come vedete le costruzioni del verbo affaticare erano state classificate in maniera molto dettagliata andiamo fino alla fine ecco qui questa parte della voce per le difficoltà intrinseche che richiedeva l'abbiamo in qualche modo congelata un'altra cosa che abbiamo congelato sono i collegamenti interni fra le voci e fra le definizioni fra le varie voci avremo e soprattutto i collegamenti all'esterno nelle voci del Clio non è possibile sapere se quella voce è già stata documentata nel Battaglia nella Crusca eccetera questa è chiaramente una lacuna che colmeremo quando il vocabolario avrà quella che nel lessico delle valutazioni per recuperarlo si chiama massa critica superiore e quindi sarà più facile fare questi collegamenti però una cosa è fondamentale la voglio ribadire le voci del Clio non diventeranno mai degli studi monografici sulle parole quello è un altro oggetto di studio ci saranno gli articoli di lingua nostra ci saranno i volumi sulle famiglie lessicali il Clio è un dizionario solo con questa specificità noi siamo potuti arrivare fino a questo punto e potremo arrivare in fondo di interoperabilità che è l'altra grande frontiera che ci aspetta cioè altri collegamenti all'esterno in maniera dinamica con altri con altri strumenti ne ha parlato ieri Leonardi e non ci torno però l'ultima cosa che voglio dire è che questa interoperabilità passa attraverso uno sviluppo e un e un rinnovamento dello strumento informatico di diffusione del Clio attualmente noi scriviamo le voci con un foglio di stile di Word e poi pubblichiamo delle pagine internet in cui è possibile fare delle ricerche ma non tutte quelle che sarebbe auspicabile fare è stato sviluppato un prototipo di un software di redazione vero e proprio che consentirà questa vi faccio vedere la schermata del prototipo sempre da Andrea Boccellari che consentirà di avere un Clio che sarà un vero e proprio database in cui sarà possibile fare ricerche a tutti i livelli a quel punto la possibilità di ricerche complicate che è stata invocata prima sarà altamente possibile vi ringrazio grazie Grazie.